Amici di Spazio Games, la famiglia dei PlayStation Studios continua ad ampliarsi. Nelle scorse ore, infatti, è arrivata la conferma da parte di Sony Interactive Entertainment di una nuova acquisizione che in realtà era nell'aria già da un po'. Stiamo infatti parlando dell'acquisizione di Bluepoint Games. Il team ha infatti una lunga storia con le console di casa Sony e finalmente diventa in maniera ufficiale membro dei PlayStation Studios. Il suo lavoro più recente che si sicuramente ricorderete è stato l'ottimo remake di Demon's Souls che ha accompagnato il lancio di PlayStation 5, ma siamo abbastanza sicuri che ricordiate Bluepoint anche per l'altrettanto ottimo e suggestivo remake dello splendido Shadow of the Colossus. Chiaramente ora siamo in attesa di scoprire quali saranno i prossimi progetti di casa Bluepoint. La Software House, dal canto suo, attraverso le parole del presidente Marco Trash, ha lasciato intendere che lavorerà a dei giochi originali che potrebbe far pensare magari che non si tratti dei remake, ma non esclude che possa trattarsi anche in questo caso di IP già note. Al momento possiamo solo fare teorie perché non ci sono ancora notizie ufficiali sul prossimo progetto, ma sappiamo sicuramente che Bluepoint Games lo pubblicherà sotto l'etichetta PlayStation Studios. Io intanto vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, sono Stefania e vi do appuntamento presto sul canale di Spazio Games.